Anche a Nuori i carabinieri hanno celebrato il 207esimo anniversario della Fondazione dell'Arma, avvenuta il 13 luglio 1814 con le regia e patenti. Il comandante provinciale, colonnello Massimo Cucchini, ha ricevuto nella caserma Antonio Fois il prefetto di Nuoro Luca Rotondi per celebrare in forma ridotta, a causa dell'attuale periodo di emergenza sanitaria, la celebrazione della ricorrenza che ha visto la deposizione di una corona di alloro in onore dei carabinieri deceduti nell'adempimento del proprio dovere e l'esecuzione del silenzio d'ordinanza. L'appuntamento è stata l'occasione per ricordare l'impegno quotidiano dei carabinieri sia per garantire la sicurezza dei cittadini che per supportarli nelle emergenze derivanti da calamità naturali, come è accaduto durante l'alluvione di Bitti, ma anche nell'ultimo anno a causa della pandemia, cui i militari hanno pagato un duro prezzo con tanti deceduti per Covid. Il lavoro svolto dai carabinieri e dal comando provinciale di Nuoro, articolato sul territorio e nuove compagnie, una tenenza, 77 stazioni, un nucleo spettorato al lavoro, 7 squadriglie, un reparto operativo e un reparto squadriglie, è esemplificato dai numeri 61.593 le persone identificate, 191.711 i veicoli controllati, 4.543 i delitti perseguiti, 141 le persone arrestate, 1982 quelle denunciate in Stato di libertà, oltre 1.700 kg di droga sequestrati. Sono tante le operazioni condotte dai carabinieri nel corso dell'ultimo difficile anno. L'ultima in ordine di tempo è la cattura a poche ore dal delitto dell'autore dell'omicidio di Mirko Farci, il 19enne assassinato a Tortoli l'11 maggio 2021, che è intervenuto per difendere la madre e rimasta gravemente ferita dalla furia omicida dell'ex compagno.